Facciamo un po' di rumore. Bella scelta. Acceleri o saremo coinvolti nel decadimento della loro traiettoria. Perché non viene a pilotare lei? Scrivi, dottore. Sì, lo vedo, lo vedo. Cos'è? Musica classica? Sì, dottore. Sembrerebbe di sì. Tenetto ora comunica a Yachtown la frequenza su cui trasmettere. Signore, ho la frequenza di disturbo. Trasmettiamo. Stato bene, Spock? Stiamo bene, Capitano. Ma tre navi sono entrate a Yachtown. È sicuramente Krall. Non lo molli, Spock. Facciali impossibile per impedirgli di usare quell'arma. La mia casa si rompe. Abbiamo perso la polarizzazione dell'armatura dello scafo. Debbiamo l'energia dalle camere di di litio. Ho bisogno di te. È di te, Jay. Andiamo! Non le perda, dottore. Le rinnovo. Li invito a venire al mio posto, Spock. Capitano, intercettare tutte e tre le navi è un'impossibilità. Datemi uno schema di Yachtown. Sullo schermo, il quartier generale. Signor Jacob, può fare una bioscazione di Central Plaza? Sì. Evacuano civili. Boss, vanno più avanti, c'è una piazza. Spingi Krall da quella parte. Perché? Fallo! Solo ci parti lassù! Vengetevi forte! Federale! F dead! Lo spugio! Lo spugio! Protocoli! I April 14'10-19% Su Those Sofettos! No! Grazie a tutti.